Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense. Come sempre diverse le notizie che affronteremo. Intanto parleremo tra poco di Covid, ma in particolare con un bilancio delle ultime settimane che vedono più contagi ma meno ricoveri. Ci occuperemo anche della Polizia d'Estato, oggi Ferrara ha celebrato i 170 anni del corpo e poi parleremo di un furto venuto a Sant'Agostino, arriva una denuncia, serve più sicurezza delle aree produttive. Parleremo anche dell'Election Day che si terrà il 12 giugno, referendum per tutti ma si andrà al voto per quello che riguarda le amministrative a terra e terreno e poi ci occuperemo delle celebrazioni che Ferrara si appresta a fare in ricordo di Giorgio Bassani. Cominciamo subito però parlando di Covid, appunto come dicevamo poco fa in Emilia-Romagna crescono i contagi ma con molti meno ricoveri e intanto da domani si potrà già prenotare per ricevere la quarta dose che interesserà mezzo milione di persone fragili. Vediamo. In Emilia-Romagna si registra un aumento di casi da Covid nelle ultime settimane, in particolare nell'area romagnola. Il picco è più alto rispetto all'aprile dello scorso anno ma è più basso rispetto allo scorso gennaio. Le ospedalizzazioni, tuttavia, sono molto più basse. È questo lo stato dell'emergenza coronavirus in regione, delineato dalla Giunta in un'informativa alla Commissione Salute del Consiglio regionale. La fascia d'età maggiormente colpita è quella che va dagli 11 ai 13 anni, la fascia delle materne invece quella meno interessata, sotto controllo la situazione degli anziani anche per l'elevata percentuale di vaccinati. Con Omicron si registrano meno ospedalizzazioni e anche meno ricoveri in terapia intensiva. Gli emiliano-romagnoli vaccinati sono arrivati al 90%, il 10% delle persone non vaccinate ha inciso maggiormente sui ricoveri ospedalieri anche in terapia intensiva. Intanto la Regione è pronta a partire da mercoledì 13 aprile con le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti-Covid-19 riservata, come prevedono le direttive nazionali a tre categorie. Per gli anziani dagli 80 anni in su, per le persone tra i 60 e i 79 anni, quindi nati dal 1943 al 1962, se affette da specifiche patologie critiche indicate dal Ministero delle Salute e infine gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, CRA e RSA, a prescindere dall'età che saranno vaccinati in via prioritaria. Le somministrazioni inizieranno già da giovedì 14 aprile. Per poter ricevere il secondo booster occorre aver completato il ciclo vaccinale primario, ovvero la prima e la seconda dose, seguito dalla terza dose di richiamo e dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dalla terza dose. La quarta dose, per le persone fragili, interesserà circa mezzo milione di persone ed è esclusa per chi ha contratto l'infezione dopo la terza dose. E intanto sono dimezzati i contagi in provincia di Ferrara in 24 ore, i ricoveri in ospedale restano più o meno stabili, ma si registrano ancora purtroppo due nuovi decessi. Questo è l'ultimo bollettino Covid della provincia estense e anche a livello regionale cara il numero dei nuovi contagi. Il servizio. Calano ancora i nuovi contagi da Covid-19 a Ferrara e provincia. Il bollettino odierno segnala 150 nuovi casi rispetto ai 286 delle 24 ore precedenti. Purtroppo si piangono ancora due vittime. Si tratta di due donne, una 76enne di Lago Santo e una 85enne di Bondeno, quest'ultima ospite di una struttura residenziale. Si registrano ancora cinque nuove ricoveri in ospedale a Sant'Anna per Covid positivo. 67 le persone ora ricoverate a Cona, tra queste due posti letto occupati in terapia intensiva. Ancora 57 i ricoveri negli altri due ospedali della provincia, 45 al delta di Lago Santo e 12 al Santissima Annunziata di 100. In Emilia Romagna sono 3.330 nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sulla base di 12.430 tamponi refertati. Il 97,6% dei casi attivi è in isolamento a casa senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo si contano ancora 20 decessi di età compresa tra i 75 e i 96 anni per complicanze da SARS-CoV-2. Mentre restano sostanzialmente stabili i ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 39,3 in più in 24 ore, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.297, 9 in meno in 24 ore. E parliamo adesso della Polizia di Stato che festeggia 170 anni dalla propria fondazione e questa mattina il corpo è stato celebrato al Teatro Nuovo. Vediamo. Quest'anno si celebra la ricorrenza del 170esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Si tratta dell'erede del corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituito con legge 11 luglio 1852 numero 1404. Lo scorso anno era stata celebrata un'altra importante ricorrenza, i 40 anni della riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Il 10 aprile 1981 veniva infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 121, un profondo cambiamento con la nascita della Polizia di Stato, la prima forza di polizia ad ordinamento civile. Nella prima mattinata di martedì 12 aprile è stata deposta una corona nell'atrio della questura di Ferrara per ricordare i caduti della Polizia di Stato. A seguire le celebrazioni si sono tenute al Teatro Nuovo, alla presenza in primis del questore Salvatore Calabrese che ha ringraziato le donne e gli uomini di tutte le specialità della Polizia di Stato che adempiono ogni giorno il proprio servizio con responsabilità. Il bilancio nel ferrarese è sicuramente importante, in primis per le azioni connesse all'emergenza sanitaria che nell'ultimo anno sono state ancora numerose, poi per gli interventi di ordine e sicurezza pubblica. Dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022 l'andamento della delituosità ha fatto registrare rispetto allo stesso periodo 2019-2020, ultimo anno prepandemico, una diminuzione dei reati complessiva di circa il 14% nel comune di Ferrara e del 12% su base provinciale. E adesso passiamo alla cronaca, una vetreria box doccia di Sant'Agostino ha subito un furto e la titolare che è vicepresidente provinciale di CNA Ferrara chiede più sicurezza delle aree produttive. La sentiamo. Giovedì notte l'azienda vetreria box doccia di Sant'Agostino di proprietà della famiglia Balboni ha ricevuto la visita indesiderata dei ladri su cui ora stanno indagando i carabinieri. Un'esperienza che purtroppo è toccata a molti imprenditori della zona. Valeria Balboni, titolare dell'attività insieme al fratello, ripercorre l'accaduto. Purtroppo abbiamo ricevuto una sgradita visita che è quella dei ladri. Ci hanno portato via quello che sono i nostri PC, le memorie. Ovviamente hanno danneggiato anche gli ingressi che abbiamo prontamente e triplicamente ripristinato in fatto di sicurezza chiaramente. Valeria Balboni, imprenditrice di seconda generazione, è membro del direttivo di CNA Alto Ferrarese e vicepresidente provinciale di CNA Ferrara. Per lei la brutta esperienza subita è un'occasione per dare ancora più forza alle richieste che l'associazione avanza da tempo. Uno dei temi di discussione o di confronto con i tavoli dell'Alto Ferrarese, tra l'altro uno degli ultimissimi che abbiamo fatto con i sindaci dell'Alto Ferrarese, è il fenomeno dei furti presso le aree artigianali e industriali. Già le imprese stanno soffrendo per la situazione, l'aumento dei costi e si aggrava con il fenomeno dei furti che è purtroppo ormai seriale e tantissimo frequente le notti o anche di giorno questo sta avvenendo. Quello che CNA ha sempre proposto e oggi incalza, sottolinea e voglia sottolineare veramente con il veneziatore è quello di fare e intraprendere delle azioni. Quello che noi proponiamo è di concretizzare delle richieste a livello infrastrutturale, perché basilarmente la tecnologia aiuta quello che è il funzionamento dei sistemi d'allarme, di quello che sono appunto una buona connessione, porta alla sicurezza e alla linealità del funzionamento di queste apparecchiature. Quindi a livello infrastrutturale la connessione, oltre che per motivi di lavoro, quindi lavorare attraverso quello e far funzionare tutto il resto che è ovviamente la base. L'installazione di telecamere di ultima generazione sulle strade, comunque in aree artigianali, produttive, che possa con controllo da remoto congiuntalmente a un'illuminazione pubblica fare da deterrente, che non vuol dire purtroppo che questo non possa accadere, ma sicuramente ha una sicurezza in più che porta le imprese a stare un po' più tranquille. Tutto ciò ovviamente se è possibile oggi ragionare anche sulle direttive dell'inquinamento luminoso in tutte le artigianali e industriali. E adesso parliamo di politica perché il 12 giugno sarà Election Day, in provincia di Ferrara voterà il nuovo sindaco il comune di Terra del Reno, ma per tutti si terranno cinque quesiti referendari. Sentiamo quali. Il comune di Terra del Reno si avvicina al voto per la seconda volta. Nato dalla fusione tra Sant'Agostino e Mirabello, tornerà alle urne domenica 12 giugno. Al momento è Francesco Margutti, 40 anni di San Carlo, l'unico candidato per la coalizione di centrosinistra, ma a breve si conosceranno gli altri pretendenti a diventare primo cittadino del comune dell'Alto Ferrarese. Per tutti il 12 giugno sarà la data di cinque referendum abrogativi. Il primo dei temi propone l'abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il secondo si concentra sulla limitazione delle misure cautelari, abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274,1 lettera C, codici di procedura penale in materia di misure cautelari e segnatamente di esigenze cautelari nel processo penale. Il terzo affronta la separazione delle funzioni dei magistrati, abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Il quarto tratta della partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Infine, il quinto è incentrato sull'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. E adesso cambiamo argomento. Sono numerose le domande di adesione al bando del Comune di Ferrara, le frazioni al centro. Nel servizio sentiamo di quello che si tratta. Sono 177 le domande di adesione a le frazioni al centro, il bando inserito nel pacchetto rilancio per l'assegnazione di contributi alle microimprese del Forese. Lo rende noto Ferrara rinasce. La raccolta delle richieste è partita al 10 marzo, si è conclusa lunedì ma sarà riaperta nelle prossime settimane fino all'esaurimento dei 250.000 euro che l'amministrazione ha investito con gestione affidata alla Camera di Commercio. Ciascun beneficiario potrà accedere a un contributo di 750 euro. Sono coinvolti i settori dell'artigianato, del commercio, i circoli privati con attività di somministrazione alimenti e bevandi ai soci e con iscrizione al REA, repertorio economico e amministrativo. I 250.000 euro complessivamente impegnati per il bando delle frazioni al centro si uniscono ai 150.000 euro stanziati per il sostegno alle attività e il supporto all'iniziativa imprenditoriale nell'area del centro storico, con termine domande il 9 maggio e ai 70.000 euro a favore delle imprese agricole con scadenza il 29 aprile per complessivi 470.000 euro inseriti nel pacchetto rilancio. I dettagli sono consultabili sul sito della Camera di Commercio. E adesso parliamo di cultura. Ferrara celebra Giorgio Bassani a 22 anni dalla sua scomparsa e a 60 dall'uscita del giardino dei Finzi Contini. Vediamo. Ferrara si appresta a celebrare Giorgio Bassani, di cui ricorrono il 13 aprile e i 22 anni dalla scomparsa, in un 2022 che segna i 60 anni dalla prima uscita del Giardino dei Finzi Contini, i 50 dal premio Oscar del film Liberamente ispirato a firma di Vittorio De Sica e il secolo dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, grande amico di Bassani. Per festeggiare lo scrittore, la città ospiterà il prossimo primo giugno un convegno internazionale alla Biblioteca Riostea con contributi di relatori provenienti da università italiane, europee e americane. L'appuntamento è organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Paola Bassani e la Fondazione Giorgio Bassani e approfondirà in particolare la volontà bassaniana di legare la sua attività narrativa alla poesia. Si rifletterà inoltre anche sui compiti della poesia dopo Auschwitz. Tra i momenti della giornata, un reading di poesie e la presentazione di una mostra a cura di Angela Siciliano sui libri legati alla poesia della biblioteca dell'autore. Il ricordo dello scrittore sarà intrecciato anche a quello di Pasolini. Recentemente il Comune di Ferrara ha indagato il rapporto epistolare tra i due artisti e amici a seguito dell'uscita delle lettere di Pasolini. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo di turismo perché si avvicina al Ponte di Pasqua ma iniziano già le prime stime di quella che sarà la stagione turistica estiva in Italia e i dati sembrano essere positivi. Vediamo perché. Quasi un italiano su quattro si metterà in viaggio durante il Ponte di Pasqua e per l'estate le prospettive sono decisamente in crescita. A due anni dalla pandemia e nel pieno di un conflitto che fa paura come quello che si sta consumando tra Ucraina e Russia, gli italiani desiderano voltare pagina investendo su qualche giorno di relax e divertimento. Per l'anno 2022 si prevede una spesa turistica in Italia di 26 miliardi più 11,8% sul 2021 con poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri con un trend in crescita rispettivamente del 43 e del 35% sul 2021. Mancheranno ovviamente le provenienze dall'est sperando di una risoluzione del conflitto ma si stima che 9 italiani su 10 resteranno in Italia per le vacanze estive andando quindi ad incrementare un comparto che si appresta ad una stagione più che soddisfacente sebbene ancora lontano da livelli pre-covid. L'analisi per livello regionale sulla spesa turistica vede l'Emilia Romagna con 3 miliardi e 8 milioni di euro pari ad un più 9,1% rispetto all'anno scorso. Tra i turisti internazionali maggiormente presenti spiccano tedeschi e austriaci da sempre legati alla costa adriatica ma non mancano provenienze anche da altre zone d'Europa e degli Stati Uniti. E adesso parliamo di solidarietà perché nella giornata di ieri lunedì 11 aprile il Lions Club Ferrara Diamanti in occasione delle imminenti festività pasquali ha consegnato uova di cioccolato per i bambini ricoverati ed il personale dei reparti pediatrici dell'ospedale di Cona. Alla consegna erano presenti il direttore sanitario cioè la dottoressa Elda Longhitano, la presidente Lions Anna Maria Quarzi e le socie Patrizia Bianchini, Alessandra Ferri e Giovanna Albione. Un gesto di solidarietà e vicinanza che aglietterà certamente il giorno di Pasqua per i bambini ricoverati. E si parla di uova di Pasqua anche per i piccoli profughi arrivati dall'Ucraina e ospitati nei centri di accoglienza straordinari di tutta la regione. L'iniziativa è stata presentata appunto in Regione Emilia Romagna ma i particolari li vediamo nel servizio. Mille uova di Pasqua per i bambini ucraini ospitati nei centri di accoglienza straordinari dell'Emilia Romagna. Sono quelle donate da due aziende del Center Gross di Bologna ai coordinamenti provinciali dei volontari di protezione civile che li consegneranno in queste ore ai piccoli ospiti che in Regione attualmente sono circa 750. L'intera fornitura è stata consegnata nella sede della consulta provinciale dei volontari di Bologna alla presenza dell'assessore regionale alla protezione civile. Oggi è una giornata importante due aziende del Center Gross di Bologna hanno deciso di donare mille uova di Pasqua ai nostri coordinamenti di volontariato di protezione civile. Insieme come Regione abbiamo deciso di darli e donarli ai bambini ucraini che sono collocati presso i centri di accoglienza che stanno gestendo le prefetture. Quindi un lavoro di squadra e non è il primo giorno che lo portiamo a casa ma destinato a quei bambini che in questo momento stanno soffrendo particolarmente. Quindi un bellissimo gesto da parte delle due aziende come sempre i nostri straordinari volontari che si prestano e a partire da oggi andranno in tutte le province dell'Emilia Romagna a distribuire nei centri di accoglienza in accordo con le prefetture le uova di Pasqua ai bambini. Certamente un piccolo gesto che ci aiuta a rendere un attimo più felici questi bimbi che arrivano e che noi trasportiamo in giro come protezione civile. È il compito che ci è stato dato e speriamo di dargli un attimo di felicità in questo momento tragico per loro. Per cui tanti gesti lodevoli di solidarietà ma parlando di solidarietà e insomma ciò che riguarda la donazione nei confronti del prossimo arriva un appello, un appello direttamente dal professor Florio Ghinelli, direttore sanitario dell'Avis provinciale che appunto invita tutti quanti alla donazione del sangue. Lo sentiamo. L'Avis in questo momento fa un appello. Sì l'appello è che è un problema. Questa pandemia che non smette, che continua, porta anche a infettare dei donatori. Abbiamo avuto donatori con il covid, abbiamo avuto donatori familiari con il covid quindi in quarantena e che ha assottigliato un po' le donazioni. Però dai risultati siamo tuttora al di sopra come numero di donazioni di sangue e di plasma al di sopra di quello che avevamo fatto prima della pandemia. Quindi quello che abbiamo fatto durante la pandemia ci è servito per non mollare e per continuare ad avere a disposizione il sangue per i nostri pazienti. Tutto questo però ricordiamo che chi vuole avvicinarsi l'Avis ha sempre le porte aperte. Sempre, tutti i giorni. Tutti i giorni, al mattino, il lunedì, giovedì pomeriggio e l'ultima domenica del mese. E siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento con il TV giornale. Prima di terminare però vi ricordo gli appuntamenti della serata. In particolare questa sera alle 22 torna il processo al Gran Premio condotto in studio da Veronique Blasi. Ogni settimana le passioni e le emozioni del dopo corsa, delle gare di Formula 1, MotoGP, Superbike e delle altre categorie del motorsport con i commenti e gli opinionisti nel paddock del processo al Gran Premio. Tutto questo dunque questa sera alle 22 su Telestense. Vi ricordo però ancora una volta il nostro sito internet Telestense.it e i nostri canali social. Ci trovate su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Con questo è tutto dunque, grazie per averci seguito e a tutti gli auguri di una buona serata.